61esimo congresso di categoria degli ingegneri qua a Palermo, quali sono le prospettive? La mia impressione è che con la digitalizzazione molte cose debbano cambiare, in realtà al di là degli strumenti i metodi comportano l'avvento del lavoro collaborativo che è una categoria antitetica alle prassi abituali, servono processi aggregativi che oggi purtroppo non esistono e che naturalmente accentuano la frammentazione, la polverizzazione del settore, in realtà si va verso la natura imprenditiva della professione a livello europeo e mondiale, ci stanno prospettando grandi cambiamenti, temo che vi sia molta difficoltà ad accettarli nel nostro paese e che comunque il prezzo sarà molto elevato.